vedete i blocchi su cui stiamo camminando in questo momento sono un esercito un infinito oceano di lucky block a tema fast food noi siamo il mcdonald voi siete il burger king io non ho ascoltato nulla perché sto guardando questo bel panino e mi sta venendo fame e smetti anche tu è super in hd mi è venuta fame vedrai quando ti uscirà qualcosa di cattivo da dentro questi panini quanto ti piaceranno di meno però c'è una sfida in corso per decidere quali panini saranno i migliori tra i nostri e i vostri abbiamo 15 minuti di tempo per aprirne quanti più possibile alla fine di questi 15 minuti dovremo contare quanti blocchi sono rimasti a noi e quali sono rimasti a voi quello che ne avrà di meno rimasti avrà vinto siete pronti? prontissimi bene dobbiamo iniziare sì ho un po' di paura allora non so se essere felice o preoccupata sei com'è non si sa mai cosa aspettare partiamo insieme lo so che è una gara ma partiamo insieme facciamone pochi alla volta e poi acceleriamo piano piano ok allora ok però non è andata abbastanza bene nel senso che guarda quanti oggetti abbiamo trovato ma quanti oggetti strani ok vado gli hai trovati tutto fere 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 no 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 perché fere facciamo che li apro solo io non lo voglio più fare le apro solo io guarda io ne spacco poi tre alla volta per sbaglio non è possibile stef aiutami fammi uscire aspetta ti salvo fammi uscire ti prego fere non morire aiutami stef prego non lasciarmi qui stef ma stai affogando ancora? eh sì certo adesso sta affogando e continuo addio vabbè vabbè comunque c'è un esercito di maiali in giro per la nostra isola allora io ti mollo e inizio ad aprirne tantissimi vado di nuovo stef no fere non farlo ok era un cartello un cartello per la prima volta non è successo nulla fere esatto esatto ok allora io rompo picchialo picchialo veloce picchialo prima che ci assalti muoviti dobbiamo stenderlo ma è colpa tua questo ok oh mamma mia no sono caduto fere abbiamo un problema oddio oddio no ti prego mi puoi dare una mano fere ci provo ti prego stai combinando tu ah stai combattendo anche tu sto coso che cos'è secondo te sì sono sotto terra non lo voglio sapere che cos'è tu picchialo e basta mori ci sta rendendo un sacco sta cosa però l'ho buttato giù l'ho buttato giù oh mamma mia fere ma perché tutti a me questo è positivo fere perché hai distrutto tutti questi lucky block eh vabbè sì quello è buono non lo metto in dubbio però è uno stress perché a me capitano sempre le cose scomole dove sei dove sei sopra vieni qua vieni qua il nostro slime è venuto da voi avete visto sì non ho notato ma adesso è tornato da voi tranquillo almeno male ci volete dare i vostri mob fere facciamo un attimo allo spuntino dai lo so che volevi un pezzo di pizza mangiatela ma non ho bisogno i miei panini lasciala qui lasciala qui guarda che devo buttare un po' di cose sono più buona questa pizza oddio 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 oh mamma mia lo faccio cadere lo faccio cadere vai 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 mi ha ucciso mi ha ucciso fortissimo no no non ti vogliamo zombie non ti vogliamo grazie puoi andare in un'altra isola magari in quella di lion se puoi andare lì va bene sì lì sarebbe perfetto stef fare questo slime vabbè ci penso io ok l'ho steso però ovviamente li butto giù ok cadete buttali giù buttali giù buttali giù 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 ok 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 che ansia ho un cuore di vita mamma mia curati 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 più che altro ormai c'è il caos hai mai trovato un accendino fere? no no però ho ritrovato uno zombie gigante corri ok tutto a posto aiutami stef no vabbè la gabbia stef mi stai lasciando proteggiare sto mostro mi sono caduti lì in villa ad osso apri la gabbia qua qua c'è cosa è di iron non ce ne facciamo nulla e vabbè ma questi zombie giganti ci devono capitare ogni due secondi qua guarda guarda un attimo l'isola di lion ma che cos'è guardali non lo so cosa sono quelle ceste hanno dei panini assassini mentre li guardavo mi hanno buttato giù attenta fere aia picchialo ah cilenti ti ha ucciso è fortissimo si straforti fere ma chi è questo coso poldo mangiore che ti tira dei panini ma ti sta tirando panini fa male non prenderli in faccia mi raccomando ah tanto ce l'ha con te io sono tranquillissimo no 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 picchialo anche tu no 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 io mi godo ciao addio ciao è stato un piacere conoscerti ciao poldo non c'è più però mi stava simpatico eh si era molto carino stanno avendo qualche problema col panino assassino spero che non capiterà anche a noi vabbè continuiamo ad aprire è buono Steph come hai detto anche a me è buono che tu riesca a distruggere così tante lucky block assieme va bene va bene va bene io sono felice infatti per vincere quello ne vale la pena quindi continuiamo ma perché devi costantemente ritornare cosa vuoi da noi dicelo vuoi qualche panino te lo diamo ne abbiamo in abbondanza anzi ne abbiamo fin troppi vai 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 tutti assieme tutti assieme non lo so guarda Ferro un fortino guarda un fortino qua guarda che bello eh però aspetta apriamo anche questi e vediamo che succede appena ci sono lucky ship povera scusami perché sta esplodendo tutto non lo so perché c'è di tutto c'è un po' d'ommagione che mi tiene i panini dalla loro isola non è possibile ma come Ferro come faccio non lo so io sono in gabbia in questo momento sto prendendo fuoco quindi non è che mi sta andando molto meglio Steph purtroppo ma tu stai cercando delle armi forti no io sto provando comunque ad aprirli ma mi va sempre male sempre cioè mi sa che qua di fortuna non c'è neanche un briciolo aiuto ma che cos'è Ferro abbiamo i lupi che ci difendono guarda i lupi che ci difendono bravi bravi buttatelo giù buttate giù il panino Ferro ma ce n'è un altro ma perché continuano ad apparire sono troppi io sto sfruttando le cascate per non cadere nei buchi vabbè picchia sto panino è fortissimo è fortissimo ma quanto è forte è più forte di quello mangione è più forte di poldo sicuramente sì 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 assolutamente oh non muore più vai lupi aiutateci vai lupi difendeteci aiutateci vi prego che qua non ne caviamo piede non schiatta io non ce la faccio io non ce la faccio oh mio dio buttalo giù buttalo giù buttalo giù ok bravissimo ce l'abbiamo fatta Ferro ce l'abbiamo fatta aspetta che mi mangio un polletto che succede come sta andando c'è un po' di caos è un putiferio ma quanti minuti siamo più che altro allora siamo intorno a otto minuti quindi siamo più o meno metà purtroppo ok voi quanti ne avete aperto secondo te allora tanti perché sono capitati due buchi di quelli assoluti quindi con quelli abbiamo fatto davvero tanto va bene Anna devi devastare devi devastare allora e comunque il vostro pallomongione ci stava tirando a noi le cose e non va bene mi stava tirando i panini mi faceva malissimo ah un creeper allora a giudicare dalla situazione in corso abbiamo combinato entrambi un bel disastro eh è un campo di battaglia io non vorrei dire ma credo che noi siamo un po' in vantaggio caro secondo me questo lo vedremo a conti fatti però potrebbe essere secondo me sì secondo me sì però sai che ti dico sai che ti dico quanti minuti ci rimangono ci rimangono sei minuti ok questi ultimi sei minuti saranno un delirio perché entrambi abbiamo le asce potenti e le spade potenti e Anna però non me la me la infili in un occhio questa spada scusa e stai attenta siete pronti questi ultimi sei minuti sono prontissimo io la mia ascia per il spacca tutto spacca tutto velocissimo rischiamo rischiamo dobbiamo fare più blocchi sono già morto ma come ma come io resisto tra il fuoco e le fiamme ok oh mio dio abbiamo fatto un disastro Feri 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 abbiamo fatto un disastro oh mamma mia Stef aiuto Stef perché stiamo facendo questo io continuo a spaccare io continuo a spaccare non me ne frega nulla non sta andando bene mi piacciono ma sono in trappola basta sono sempre in trappola sono avvelenata Feri picchia dobbiamo liberarci un po' di tutto quello che abbiamo fatto arrivare oh mio dio che casino incredibile vabbè io torno oh no ma perché mi devono capitare poi sempre questi fortini fare occhio che c'è uno zombie gigante ok ok tutto molto sobrio vado a picchiare lo zombie non fa neanche più a camminare io sto spaccando tutto no non fa più neanche a camminare Stef cioè non so più dove andare non so più dove andare no 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 il buco no il buco no il buco no e vabbè dobbiamo fare davvero 6 minuti così è che voglio vincere però non so se posso reggerli no 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 oh mamma mia Stef è sempre peggio qui sopra lo so te eh che cos'è che cosa cioè è un insetto dei panini questo probabilmente sai che cos'è Stef è l'insetto che c'è dentro i panini del McDonald's perché quelli di Burger King sono buoni scusami eh ah la propaganda tiriamo acqua al nostro umulino scusa pensavo stessi insultando a me che quando mangia McDonald's anche a te anche a te perché tu lo devi mangiare è il nostro avversario il McDonald's guarda Fede cosa si fa ai mostri agli insetti dei panini hai visto è già morto non c'è più e l'ho buttato di giù no Fede è tornato ma come ha fatto che schifo che schifo è scomparso sì è terribile sì è scomparso sembra Red lo so che è controproducente però ho pensato una cosa andiamo nella loro isola un attimino a fare cosa vieni 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 a disturbarli li facciamo paura da dietro loro non se l'aspettano perché c'è un caos incredibile e noi li assaltiamo l'isola ma cosa vuoi fare ci li puoi uccidere tipo le Bedwars esatto andiamo dietro ad Anna con l'ascia e li picchiamo ma lei non è però morto è una tristezza pronta vai guarda aspetta è stata chiuda aspetta 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 povera appena esce all'attacco all'attacco su Anna non possiamo attaccarla ma come va bene è una triste Anna io ho una cassa non possiamo attaccarla vabbè andiamoci no Fede andiamoci è stata tristissima davvero è stata la cosa più triste che abbiamo mai fatto mi butto pure dato che era tristissimo comunque mancano soltanto due minuti Fede quindi dobbiamo muoverci muoviamoci cerchiamo di vincerci questa sfida perché ce la meritiamo ce la meritiamo per tutto quello che è successo quindi prendi il piccone Fede e buca tutto vai vai Fede vai Fede è più possibile buca tutto sono già morto anche io ci stai facendo Fede sto facendo un caos si 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 stando sotto terra mi sono cos'è che cosa non lo so ho baggato tutto ho baggato tutto ho baggato tutto Fede ho baggato tutto bravissimo cerco di tornare in superficie ok rieccomi dicevo che se vai molto sotto terra e inizia a scavare tendi a morire ma non riusci a farne di più finito non riusciamo nemmeno a spawnare ma neanche noi finiamo qui si tanto siamo a 5.50 ok allora tutti in creative prima che ci massacrino vai 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 ok via 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 è stata la cosa più impiastricciata cioè in questi cubi è successo praticamente di tutto ma anche a noi se non si capiva più nulla alla fine e secondo me non ne abbiamo neanche aperti tanti anche secondo me è stato un distruzione comunque ora contiamo ok adesso io farò sparire tutti i blocchi rimasti nel nostro cubo ok lui mi dirà quanti esattamente ne sono rimasti vai meno ne sono rimasti meglio è vince quello che ne ha rimasti meno a noi ne sono rimasti esattamente 13.335 ok 13.335 ma lo scrivo anche così non si sa esatto scrivetelo 13.335 non ha considerato nessuno degli altri blocchi vedi è rimasto tranne quelli ora facciamo lo stesso conto per voi siete pronti per avere il verdetto vai vado da noi erano 13.000 se voi ne avete di meno avete vinto ok ah no quanti ne avete 13.000 002 abbiamo vinto avete vinto non ho idea di come sia possibile di pochissimo però se l'abbiamo fatta era un putifed eh però eh e questi due per due non cambia niente caro mio però erano 13.000 004 eh ce lo ricorderemo sì te lo devi ricordare oh ragazzi è stato ne abbiamo vinto ne abbiamo vinto una sua Minecraft non ha vinto niente perché è stato un caos è stato ci siamo vindicati di quello dei dei cosi degli scattoloni esatto questa volta abbiamo vinto noi così imparano uffa però non è giusto bisogna fare la rivincita ma ma me è stato un caos no no niente rivincita no beh ragazzi lasciateci un like e per la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdermi gli altri episodi ciao alla prossima ciao ciao ciao